Cambiare le pensioni, questo è uno dei messaggi forti che accompagneranno la giornata di mobilitazione nazionale indetta per sabato 14 ottobre da CGL Cisle Willa. A Sondrio in programma il presidio in piazza Garibaldi dalle 10 a mezzogiorno. Oggi tre segretari provinciali hanno anticipato le proposte del sindacato su questo tema. Siamo in piazza per un'azione organica che parte dalle pensioni ma che vuol rompere anche quel circolo vizioso nel quale i giovani si trovano in un mondo del lavoro sempre più precario, sempre più discontinuo, hanno fatica a avere una carriera lavorativa, incontrano il lavoro povero e poi alla fine non riescono ad arrivare alla pensione o ci arrivano in un'età troppo lontana. Vogliamo rompere questo circolo vizioso. Romperlo vuol dire valorizzare il lavoro, trovare le risorse per gli investimenti a partire da un rinnovo decente dei contratti in essere tra cui anche quello del pubblico impiego. andare a tutelare quelle categorie deboli o categorie che per diversi motivi durante la vita lavorativa non hanno potuto accumulare tutti i contributi. Penso per esempio alle signore, alle donne con famiglia che nella loro vita hanno dovuto accudire i propri figli e anche oggi dopo che i figli sono grandi magari accudire anche i propri genitori e parenti, avere un'attenzione particolare e valorizzare quegli anni in cui sono venuti di restare assenti dal lavoro per riuscire ad avere anche loro in termini pensionistici un assegno dignitoso in tempi anche dignitosi. Dalla iniqua legge Monti Fornero del 2012 abbiamo risentito da tutti i punti di vista di questa decisione che è servita soltanto a fare cassa e infatti si ipotizza che negli otto anni dal 2012 al 2020 ci sarà un risparmio di circa 80 miliardi di euro. Questo però ha avuto delle ripercussioni anche dal punto di vista sociale oltre che ad avere inibito a migliaia e migliaia di persone che si aspettavano di poter accedere al pensionamento di potervi arrivare. Alto argomento caldo, la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Nel DEF si prevede una riduzione di spesa dall'attuale 6,6% del PIL al 6,3% nel 2020. I sindacati chiedono che la spesa venga innalzata alla media europea. C'è poi il capitolo contratti, quello del pubblico impiego attende di essere rinnovato da 7 anni.